Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 25 aprile, si concentrano sulla Coppa Italia. Dopo la prima semifinale di ritorno giocata martedì, che ha decretato la Juventus come prima finalista della manifestazione, anche l'Atalanta ha staccato il pass per l'ultimo atto. Dopo la sconfitta dell'andata per 1-0, i bergamaschi hanno ribaltato il risultato battendo 4-1 la Fiorentina con le reti di Copp Mainers, Scamacca, Lukmen e Pascialic. Scorri la gallerie per leggere le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi. La prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano. Questa volta non in campo per lo scudetto ma sul mercato per prendere Zirk Zee, talento del Bologna. Nel taglio alto l'Atalanta che affronterà la Juventus in finale di Coppa Italia, mentre in quello basso focus sull'Atletica con Jacobs e sulla Ferrari versione azzurro al GP di Miami. Spazio anche a recupero tra Udinese e Roma.